Donato Telesca, tu sei il giovanissimo direttore dell'orchestra maldestra, come nasce? Beh, nasce tutto per scherzo, diciamo, nasce in una festa, in una festa di compleanno, è tra un incontro di vari giovani interessati di musica che frequentavano le istituzioni musicali di questa città, che sono di un valore immenso, e ci siamo detti, ma perché non proviamo a fare qualcosa da soli, qualcosa partorito dalla nostra mente e dalle nostre emozioni, e da qui, diciamo, siamo partiti nel maggio del 2023, dopo un anno di lavoro per ideare il tutto e per prendere tutte le persone, siamo andati avanti, e adesso ci troviamo qui, suoniamo studiando la musica dei popoli e la ricerca musicale a 360 gradi. A tutti quei giovani, a tutti quei tuoi coetanei, ai quali manca magari questo coraggio di provare di inseguire i propri sogni, che consiglio senti di dare? Beh, sicuramente gli consiglio di amare di più, amare innanzitutto se stessi è quello che ci circonda, solo così allora avranno la possibilità di vivere, ecco, avere il rimorso di non aver fatto quello che in questa età, che sono l'età dei geni, di chi scopre la relatività, ad esempio Einstein a 21 anni, ed è importante questa cosa, quindi stimolare l'amore per se stessi e per tutto quello che vediamo, assaporiamo il mattino. Donato, che cos'è per te un'opportunità? Beh, l'opportunità è vivere dove non c'è niente, ecco, e questo è interessante ed è anche contraddittorio, però penso che la mia più grande fortuna è stata vivere dove comunemente non c'è niente, invece io ho trovato tutto.